vabbè Yumi lo so Yumi ragazzi è noiosa cioè non fatelo ripeto tutte le volte Yumi per me dovrebbe essere cancellata dal gioco e basta poi la gente si suggerisce ma non è così forte ma chi se ne frega può anche far schifo ma non voglio proprio che ci sia in game un champion dove non devi camminare il champion di quasi amici non ci deve essere è questo il concetto cioè perché tu Riot devi ipotizzare un campione che non deve camminare che non deve muoversi per noi non ha senso grazie Dolphin per il Prime benvenuto a una Felix Army Dolphin benvenuto Aurelion in team oh Toto Yumi può anche far schifo come champion può anche nerfarla ma non me ne frega un cazzo può anche metterla che una una sua W per curare costi tutto il mana che ha non me ne frega un cazzo è fastidio la gente alla giocare lo stesso farà schifo perderà il game e tu ti annoierai a giocareci contro perché è come giocare contro un albero e non ma ok è un albero proprio di quelli che stanno fermi allora pensiamo un attimo qua ormai ho perso il conto di quante volte ho fatto questo discorso ragazzi però vabbè me l'avete chiesto quindi ve l'ho detto la E si la W quello che è ragazzi e Seraphine Seraphine è il classico champion che cura e basta dai girl e via eric ma fai gli stereotipi chi gioca a Seraphine su Ticitalia vabbè dai ogni tanto un po' di pepe ci vuole ma gioco io bravo Sky complimenti terenus ecco oppa erano ritorno una volta ogni tanto ecco tipo rihanna è un campione contro il quale mi si trovo bene che ti può fare il culo a strisce veramente però almeno non è a cali è un bel passo avanti fidatevi di me ti outrange senza neanche sudare ma almeno non è a cali è a cali ragazzi il champion non la cali adesso la cali quella merdosa della season 4 con la quale ho fatto la mia primissima pentakill tra parentesi no non diventava invisibile gli unici dash potevi farli contro il nemico non potevi dashare indietro sto rihanna sembra anche brava perché ma mi poca non è un bot che farma e basta adesso l'ho fatto il complimento diventa un abominio diventa un abominio eh bro ok appurato che sto rihanna qua non sta facendo schifo mi sta abbastanza even di farm però non c'ho la W mi spiace mister Garen avrei voluto sicuramente far di più un abominio comunque Garen jungle è molto bello chissà se è un altro mio fan il quarto della serata perché abbiamo trovato pochi oggi è meglio se te ne vai back filati di me ok back buono allora non andrò di goccia ragazzi non andrò di goccia ve lo dico chiaramente non voglio fare la build con la goccia visto che adesso Rabadon ha un costo già leggermente più umano ha quei 200 gold in meno e sono 5 per l'uomo che mi ha fatto conoscere lol cacci mi sento in cura grazie mille deve sub cacci bentornato bro lo so non ho ancora preso le scarpe per il predator e lo fieri easy ulti bot volevo ultare però questo nice oddio potevo anche andare back effettivamente forse dovevo andare back non potevo dovevo andare back dovrei salvarmi oh no quel flash maledizione mi sarei salvato peccato mi sarei salvato buonasera come stai va bene flash per flash e kill grazie faluz 14 mesi faluz bentornato angelo 8 mesi grazie mille cammeline per il prime è tornato 4 mesi mamma quanti sub ragazzi grazie mille a tutti ma l'ho detto fino all'inizio che storiano cioè seria che non era il classico bronzo che fa roba a cazzo vacci ma perchè lo ri-ingaggia Vabbè Vabbè la fine è che devo gankare a piedi Vabbè Eh What Grazie Alex Ne mancano 8 e 40 Grazie mille bro dei Beats Io non saremmo arrivato in tempo Manco provandoci Non è strano comunque Oh comunque non sono i classici Bronzy bot questi avete visto Un game di una qualità leggermente più alta Da solito Leggermente Non esageriamo ragazzi Non ci può essere un po' di privacy da queste parti Così pochi danni ho fatto Peccato Vabbè Sa che Zia Ragazzi Eh sì Sicuramente colpa di Garen Sì 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 Pinga Garen Mannaggia Garen Proprio colpa a lui Sulla ragazzi Cioè è chiaro direi Avete visto anche voi Sulla ragazzi Sulla ragazzi Non posso ultarla Perché lei mi impiazza La shockwave sotto il culo E mi ammazza Mi limito Mettere pressure sulla wave Buonasera Shia Grazie mille Non so come si pronuncia il tuo nome Grazie mille bro Grazie agli otto mesi Mamma che counter gank signore Mamma che counter gank signori Preciso proprio Preciso Molto bene Wonderful Questo era un signor counter gank ragazzi Questo era un signor Nice pizza Aurelion Ecco E le cose importanti nella vita Avete dovuto tippare lì Mannaggia No vabbè Poco male Poco male Ok Ragazzi Io Sono assolutamente fair Sulle scommesse Mi interessa Cosa avete scommesso Le kill Non kill Io gioco Allo stesso modo Gioco Gioco sempre lo stesso modo Non mi faccio influenzare Eh Ok Gli ho interrotti Niente Niente Sono tutti lì E il mio jungler è top Quindi a prescindere Non c'è molto che possa fare Non c'è molto che possa fare Me ne vado A me che ci riuscetto Siamo noi Gli amministratori delle bet Ric e super parts k Grazie a me Grazie a me Esatto Mettiamo in chiaro Il mio jungler ha fatto una Il mio jungler 3-1 Va bene Cioè nel senso Ho fatto la sua decisione Ha preso l'attuno top Oddio No troppa gente No way che io possa fare qualcosa Qua dobbiamo Abort mission Questo è proprio Abort mission Mi dispiace Oh Ryan è ancora là A me non ci cascano più Quelli lì in bot 1.800 mi manca 200 per il cal 1.600 Ok Servono altri 100-200 gold Grazie xale per i beats Bravissimo xale Andrei bot Cioè andrei back Vediamo il cal Ecco Molto bene ragazzi E si vola Oddio Per chi avesse Iniziano i one shot signori Olè Oppa Gangnam Style Guarda quanto minaccioso Ragazzi Ecco qua Quanto minaccioso Il TF che balla Il Gangnam Style Danni onesti Porca troia Che danni fa sto champion Vado a prendere Il Brubba Il Brubbuff Sì ma questi suorrendano 15 a 7 Amma mia Orianna 2-1 Comunque Ma perché mi sono limitato Con lei Sono stato un gentleman Adesso arrivano i one shot Siete pronti Siete pronti ragazzi Della chat Siete pronti Al one shot Sì o no Fatemi vedere in chat Buffete Ma come Vabbè Net Scammati Eh ragazzi Il double kill di Leona Leona 4-0-6 Excuse me Vado back Ma sì Andiamo back Ragazzi Tempo di prepararci Il one shot qua Prepariamoci Il one shot Facciamoli saltare In aria Un attimo Devo preparare Il one shot Però arrivo Ok Guardate Boom Vabbè Poi lo scudo Vabbè Non l'avrei one shot Lo stesso Uffete Mamma mia Uffete Nooo L'ho missato Con la Q Fuffete Buffete Caracca blu Fuffete Caracca blu Caricchiamo Caricchiamo la E Ok GGTF Grazie Grazie Puffete 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 Fuu Ah sì Lei vuole Puffete Per caso Puffete 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 Caricchiamo la E Non ci sono Mob TF Smurf Smurf Smart Smart Questa è la vera domanda Nuovo campo dei lupi Ma vabbè Niente Oh ragazzi Too much puffete Comunque In questo In questo game C'è Too much puffete Ok Ok Ehm Che andiamo Ma chi se lo mere Ma è Garen jungle Dai Niente ragazzi 3C1 Jungle su Ez Dice Garen Eh Ragazzi Lungo 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 Ragazzi Lungo Molto Molto Lungo Ottimo Tutorial Arriverà anche Quello Arriverà anche Quello Lungo